Ebbene sì, siamo giunti alla fine del nostro viaggio sull'amore e dobbiamo affrontare la questione di amore e spiritualità. Forse non tutti sanno che il termine spiritualità è un termine relativamente nuovo, nasce con la modernità e sta ad indicare in qualche modo, volendo sintetizzare quella dimensione di anelito verso il divino che non sia direttamente collegata a una fede religiosa, a una religione, un anelito in qualche modo laico o mistico e quindi è evidente che l'amore è alla base, alla radice, c'è un collegamento diretto tra amore e spiritualità, solo che noi tendiamo a credere, a riconoscere la spiritualità come qualche cosa che c'è in alto, che è elevato e il nostro mondo invece materiale, il mondo dove viviamo i nostri amori e i nostri dolori come qualche cosa di separato. In realtà lo spirito discende e la materia sale, lo spirito discende significa che pervade ogni cosa, lo spirito è qui nella terra, è nel tavolo, è in questo cellulare, è in ogni cosa e quindi dicevamo che l'amore è come la luce, è come l'acqua, l'amore è come lo spirito, amore e spiritualità sono in qualche modo due aspetti dello stesso fenomeno e allora cosa significa veramente realizzare una condizione di realizzazione spirituale? Significa lasciare che l'amore agisca e come possiamo fare che l'amore agisca? Scomparendo, togliendoci di mezzo, per assurdo, perdite e ti ritroverai, diceva qualcuno, per assurdo quando noi rinunciamo a noi stessi, ci troviamo, quando scompariamo l'amore agisce. Pensiamo ai termini am so, che vuol dire appunto io sono, oppure anche a colui che è, io sono colui che è, cosa significa? Io sono colui che è, non io sono questo, quell'altro o quell'altro, buono, cattivo, bello o brutto, io sono colui che è, e si dice che Dio sia amore, no? Io sono colui che è, è colui che ama, è l'amore, e allora ogni volta che noi ci identifichiamo con qualcosa, anche se fosse la realizzazione spirituale, anche se fossero i più legati valori, stiamo sottraendo energia all'amore. L'amore quindi è totale disidentificazione, o meglio, l'amore è ogni cosa, ma quanto più noi impariamo la disidentificazione, lasciare l'importanza personale, lasciare tutto quello che crediamo di essere, per lasciare che sia l'essere ad essere, perché ci sia questa coincidenza tra il nostro io che credi di essere, tu chi credi di essere, ma lei non sa chi sono io, non sei nessuno, non siamo nulla se non l'essere, non siamo nulla se non amore, e perché l'amore possa manifestarsi dobbiamo scomparire, rinunciare ai nostri bisogni, ai nostri desideri, dei nostri, il sacrificio, che uno dal punto di vista dell'io sacrificio, fare sacrifici, rinunciare, ma come, tutta la fatica che faccio per raggiungere qualcosa e poi, queste sono sciocchezze, sono stupidità, rinunciare la più grande grazia che noi possiamo trovare, rinunciare a noi stessi, nel senso di non attaccarci a quello che siamo, alle illusioni di chi crediamo di essere, lasciare che l'essere sia e lasciare che l'amore agisca, questa è la sfida.